Il Master Stretch Il Master Stretch è uno strumento ginnico di semplice uso, adatto per tutte le età. Gli esercizi con il Master Stretch permettono stretching, potenziamento muscolare, mobilitazione articolare, coordinazione, facilitazione proprio scettiva. Nell'adattamento posturale è la caviglia ad essere soprattutto coinvolta, essendo il segmento articolare più prossimo al suolo. Più la caviglia è forte e flessibile, più efficiente è l'aggiustamento posturale e quindi la stabilizzazione del corpo. I gruppi muscolari principalmente coinvolti nell'uso del Master Stretch sono fondamentalmente quelli degli arti inferiori, nonché i glutei, gli addominali e quelli che fanno capo alla colonna vertebrale. Il Master Stretch quindi coinvolge il corpo in tutta la sua globalità. Il Master Stretch ha anche una funzione estremamente importante, che è quella di favorire la circolazione del sangue e il drenaggio linfatico, potenziando la funzione di pompa degli arti inferiori. Il Master Stretch è soprattutto uno strumento estremamente maneggevole, contenuto nelle dimensioni e può essere usato anche in piccoli spazi, come in ufficio o in casa. Il Master Stretch può anche essere uno strumento utile nel corso di una riabilitazione. È comunque consigliabile chiedere il parere di un medico. Sedete su una serie con la schiena diritta e le ginocchia piegate all'angolo retto, basculando ambedue i piedi avanti e indietro. Questo esercizio può anche essere eseguito alternando i piedi. Espirate ogni volta che i talloni si abbassano. Sedete nella stessa posizione dell'esercizio precedente. Stendete una gamba mentre ispirate dalla bocca. Portate il piede alla posizione di partenza, ispirando dal naso. Ripetete l'esercizio alternando le gambe. Tenete le mani aderenti su una base d'appoggio stabile e state eretti ad una distanza massima di 40-50 cm. Tenete i piedi paralleli a circa 10 cm l'uno dall'altro. Mantenete tese le ginocchia e trasferite il peso sulla punta dei piedi. Basculate indietro trasferendo il peso sui talloni. Ispirate dal naso mentre andate su. Ispirate dalla bocca mentre tornate giù. Continuate a tenervi alla base di appoggio, con i piedi nella stessa posizione dell'esercizio precedente. Trasferite il peso del corpo da una gamba all'altra, flettendo e stendendo i piedi alternativamente. Ricordatevi di ispirare dalla bocca ogni volta che abbassate il tallone. Continuate a tenervi alla base di appoggio, tenendo le gambe parallele e i piedi a 10 cm di distanza l'uno dall'altro. Fate un passo indietro con il piede sinistro. A questo punto piegate la gamba anteriore, trasferendo il peso sulle dita e stendete quella posteriore cercando di raggiungere il suolo con il tallone. Con le mani sempre sulla base di appoggio, camminate lentamente portando i piedi indietro. Fermatevi quando il busto ha formato un angolo retto con le gambe. Gradualmente arteldando i piedi, cercate di raggiungere un piacevole allungamento nella zona posteriore delle gambe e della schiena. Grazie! 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 Grazie!